È ispirata alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989 la Carta dei diritti della bambina che la città di Sciacca, unitamente ad altri sette comuni del territorio, ha deciso di adottare. L'iniziativa, promossa dalla sezione saccenze della FIDAPA, ha l'obiettivo di educare sin dalla prima infanzia alla parità e al diritto a contrastare la violenza di genere e a promuovere la parità sostanziale tra i sessi. Questa mattina in Sala Blasco c'è stata la presentazione dell'iniziativa. Oggi si presenta la Carta dei diritti della bambina. Sono nove punti che la nostra Presidente nazionale Caterina Mazzella ha voluto che noi proponessimo le nostre amministrazioni locali. Noi il gruppo FIDAPA di Sciacca non ci siamo limitati soltanto al nostro comune saccenze ma abbiamo voluto interessare anche i paesi limitrofi a noi, dove c'era presente una nostra socia e quindi otto FIDAPINE praticamente hanno interessato, otto comuni e sono riuscite a far parlare questa carta grazie anche all'intelligenza e voglio dire anche alla sensibilità delle amministrazioni locali e dei sindaci naturalmente che ne hanno curato tutte le procedure. È un'iniziativa simbolica ma qual è l'importanza e il significato? L'importanza è sensibilizzare l'opinione pubblica per cui noi non ci fermeremo soltanto a questa approvazione ma seguiremo le varie amministrazioni in tutte le iniziative che loro vorranno intraprendere proprio facendosi guidare da questi punti che sono la linea guida della carta. Una tra queste per esempio sarà quella, e la stiamo per annunciare all'interno della Sala Blasco di oggi, l'istituzione di una borsa di studio che proprio promuoveremo all'interno dei comuni che hanno approvato la carta dei diritti della bambina, rivolgendo naturalmente alle scuole. Attraverso l'adozione della carta dei diritti della bambina, i comuni si impegnano dal canto loro a promuovere tutte le iniziative necessarie per l'affermazione dei diritti contemplati nella carta e che vanno nella direzione di valorizzare le differenze tra bambini e bambine e superare gli stereotipi che limitano la libertà di pensiero e di azione in età adulta. L'impegno dei comuni nell'adozione della carta è proprio quello, quindi portare avanti delle campagne di sensibilizzazione anche con le scuole, che cerchino appunto proprio di sintonizzare i bisogni e sulle esigenze e le particolarità di questa categoria che nasce già vulnerabile e comunque gli stereotipi portano a questa vulnerabilità che va combattuta. La carta è composta da nuovi articoli che tutelano e che mirano alla tutela e alla salvaguardia dei diritti della bambina, onde evitare le violenze prevalentemente nel settore sessuale ma anche le diversità sotto il profilo dell'etnia, della razza, della cultura e della diversità anche dei generi fra bambini e bambine. Quindi si propone di porre in essere le basi per un migliore futuro generazionale dei giovani.